Siamo all'aeroporto della Malpensa, alle 11.23 è sbarcato il nuovo acquisto del Milan, il nuovo bomber del Milan, il giovane 99 Raffaele Au. È arrivato quindi con qualche minuto di ritardo, domani mattina le visite mediche, ma vediamo le prime immagini di Raffaele Au a Milano, in esclusiva sul mio canale YouTube. Grazie a tutti. Peppe non spallarmi sempre. Fai un saluto Raffa, fai un saluto. E dunque queste le prime immagini di Raffaele Au, non sorride molto, speriamo che sorrida di più in campo. Raffaele Au, se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo.